Kakejiko 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 è un'arte che è vecchia e molto moderna Especialmente con un nuovo modo di vivere di persone, le persone si muovono molto e vivono più in piccoli magari anche solo Quindi Kakejiko è un'arte che si può muovere Quando hai una pittura tradizionale è riuscita Non si muovere Kakejiko ti permette di avere più pittura in casa e di avere più gusto Abbiamo venuto molto tempo e ho trovato l'opportunità Penso che Gifu è perfetto per la vita e soprattutto per gli artisti è molto forte con la natura con lo che hai bisogno E' un paese un paese dove gli artisti possono vivere molto bene e ottenere un paese È come un sogno perché per gli artisti trovare un paese è molto raro Kakejiko non è facile La bellezza di Kakejiko è il uso del washi Io chiamo il washi un paese un paese perché è vivibile C'è sempre una piccola differenza in ogni washi che è come che ti ha dato una nuova inspirazione e che ti ha in contatto con la natura Io ho dipinto per molti anni con colori e fabri però non ho trovato l'emozione che ho trovato ogni volta che ho dipinto con Kakejiko Quindi prima di painting abbiamo studiato insieme con gli artisti quindi abbiamo studiato tutto l'interno di Kakejiko prima di painting qui L'artista ha sempre bisogno di un artista nella storia Con il Kakejiko abbiamo bisogno non come tradizionale per la painting ma come una struttura per un nuovo tipo di painting Questo è quello che mi piace perché quando finisci per la painting iniziare un nuovo lavoro con l'artista come fare Kakejiko Quindi abbiamo bisogno di posizionare il tipo di fabri per mettere tutti i dettagli per la finita ci sono molte cose che ho bisogno analizzare Penso che è il momento di dare questa opportunità di questa arte e la 開a all'international mondo e poter vedere diversi artisti con questa tecnica Non sarebbero sorprendenti vedere l'artista molto popolare internazionalmente e è una buona l'artista quindi mi piace che mi piace l'artista che che mi piace mi piace Grazie a tutti.